Non poteva mancare lei, una grandissima stilista, lei Alessandra Guerrero, Alessandra sempre presente negli eventi, questa sera quale sono le aspettative? Sì, amore mio, stasera sono ospite d'onore e sono onorata di essere qui in questo concorso splendido che ogni anno prende più forza e vediamo chi vince, sono lieta di essere qua, grazie. E per te la Miss Vincente cosa deve avere? Deve avere il grande coraggio di continuare avanti a lottare per noi, perché noi siamo importanti. Lascia un messaggio per la transfobia. E non alla transfobia, perché oramai le porte si sono spalancate, penso che non deve stupirci più niente, siamo esseri umani, tutti viviamo la vita, vivere e lasciare vivere, penso. Sono d'accordissimo, grazie mille, fai vedere il tuo total look. Veramente stupenda come sempre, grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.